Un cartellone unico per l'estate 2014, Silvi, Atri, Roseto e Pineto hanno scelto di fare squadra per offrire ai turisti che hanno selezionato la riviera del Cerrano e la storica città dei Duchi d'Acquaviva un panorama completo dell'offerta di cultura, enogastronomia e spettacoli dei quattro comuni terramani. In pratica si tratta di allargare di molto il bacino. Il turista di Pineto potrà vedere gli eventi che si svolgeranno a Silvi, Roseto e Atri e quindi preferire ogni sera un evento di Roseto piuttosto che uno di Pineto, piuttosto che di Atri. Quindi penso che sia un'offerta importante che quest'anno diamo noi dei quattro comuni. Il nostro intento è quello di offrire al turista sempre più servizi, sempre più intrattenimento e sempre più la possibilità di godere appieno delle nostre terre e del nostro territorio. Quindi abbiamo accolto con molto entusiasmo questa possibilità che ci è stata data di poter offrire un qualcosa di congiunto in modo da poter garantire a chi frequenta le nostre spiagge e chi frequenta i nostri territori, i nostri borghi, la nostra offerta turistica di poter usufruire di una serie di intrattenimenti che siano anche itineranti nelle terre del Cerrano. L'iniziativa è solo l'avvio di una collaborazione più stretta tra i quattro comuni che hanno costituito il consorzio della riviera dei Duchi d'Acquaviva. Noi questo territorio può, in ambito turistico ma soprattutto culturale ed ambientale, può fare veramente tanto. Atri è una città d'arte delle più importanti d'Abruzzo, col suo patrimonio monumentale, storico, con le grandi, con le tantissime manifestazioni che la città di Atri offre ogni anno al vastissimo turismo che appunto risiede sulla costa terramana. Pensate che il 65% delle presenze turistiche d'Abruzzo risiede sulla costa terramana da Silvi. È la partenza per una nuova era della pubblicazione delle manifestazioni importanti del territorio. Intanto abbiamo cominciato con le terre del Cerrano, quindi Silvi, Roseto, Pineto ed Atri, per poi estenderci pian piano a quello che è il consorzio della riviera dei Borghi d'Acquaviva, la DMC appena costituita, che comprende 16 comuni che vanno per tutta la vallata del Vomano e della Valfino. Grazie.